E' stato il partito della stenzione anche in Abruzzo il vero vincitore delle elezioni particolari di quelle europee, dove un italiano su due non è andato a votare. Dato importante che fa riflettere e consolida un trend in continuo calo con la progressiva emorragia di voti, soprattutto riguardanti la competizione elettorale europea. Un po' meglio sono andate le cose nei centri dove si votava anche in comune, dove tradizionalmente c'è un'affluenza più alta. Il dato definitivo dell'affluenza alle urne in Abruzzo si è attestato al 47,13%, un vero e proprio record negativo. Un po' meglio sono andati i dati, dicevamo, ai percentuali di votanti nelle amministrative dove Pescara ha fatto registrare il 61,88% degli aventi diritto, seguita da Giulia Nova dove ha votato il 52,53% degli aventi diritto e prima ancora Montesilvano con il 59,46%. Espluati i fratelli d'Italia, le europee che si conferma primo partito in Abruzzo con una percentuale del 33,3% superiore rispetto alla media nazionale in crescita, rispetto al 27% delle politiche del 2022, al 7% delle europee del 2019. PD al secondo posto con poco più del 20,3%, 16,6% nel 2022, 16,9% nel 2019. Seguono il Movimento 5 Stelle che scende al 12% dal 18,4% del 2022 e 22,4% del 2019. Forza Italia al 10,82%, 11,1% nel 2022, 9,3% nel 2019. Poi la Lega al 7,93%, 8,2% nel 2022, 35,3% nel 2019. Alleanza Verdi-Sinistra al 5,26% che raddoppia il dato delle ultime politiche, 2,68%. Tra i candidati abruzzesi spicca il risultato di Antonella Ballone, Forza Italia, con 41.000 preferenze nella circoscrizione sud, di cui circa 14.000 ottenuti in Abruzzo. Occhi puntati anche su Pescara, dove si vota per le amministrative, si è votato per le amministrative. Stando agli exit poll del Consorzio Opinio Italia per la RAI, sindaco uscente Carlo Masci, centrodestra, è in vantaggio con un dato compreso tra il 47,5% e il 51,5%, ma è probabile il ballottaggio con il candidato del centrosinistra Carlo Costantini con una forbice tra il 34% e il 38%. Per quanto riguarda l'europea scende l'affluenza che si è fermata, abbiamo detto, al 47,12% più bassa rispetto alla media nazionale, 49,69% e inferiore rispetto al dato regionale di 5 anni fa, con il 52,61%.